... Incidente nella serata di giovedì 7 marzo intorno alle 21 in corso Caroliani a Rivara, una Fiat Punto uscita di strada e si è schiantata contro le barriere che delimitano la carreggiata, abbattendo una centralina telefonica. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, l'ambulanza della Caccia Rossa di Lanzo, i carabinieri e il vice sindaco Vincenzo Martino. L'uomo alla guida dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Cerie. Non è in pericolo di vita, la dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.